E' stato un sopralluogo effettuato dall'alto in elicottero lo scorso 8 aprile dai finanzieri del reparto operativo aeronavale, in collaborazione con i colleghi del gruppo Pescara, a fare individuare un'area di 2500 metri quadri dove era stata realizzata una discarica abusiva nel comune di Montesilvano. Ulteriori verifiche hanno confermato la presenza di oltre 380.000 kg di rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul suolo vegetale. A conclusione dell'attività le fiamme gialle hanno denunciato alla procura della Repubblica di Pescara quattro soggetti ritenuti responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discarica abusiva e violazioni al testo unico ambientale. Si è proceduto pertanto ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera area nonché dei rifiuti speciali ivi contenuti. Circa gli aspetti ambientali e la salute dei cittadini a seguito dell'intervento è stata informata l'Arta Abruzzo per l'esecuzione della campionatura dei materiali rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. L'operazione ha anche risvolti di natura tributaria connessi alla cosiddetta ecotassa, il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate. La base imponibile determinata in relazione alla quantità e alla tipologia dei rifiuti stimata dai tecnici intervenuti sul sito ha consentito di accertare migliaia di euro di tributi non versati.